Sostanzialmente in 5 anni di mandato abbiamo ridotto l'indebitamento di oltre il 20%, 4 milioni di euro e c'è stato possibile grazie a una serie di risparmi effettuati, banalmente abbiamo ridotto i costi del personale di oltre il 10%, abbiamo ridotto le spese di funzionamento dell'ente e il tutto senza gravare sui servizi perché alla fine abbiamo anche steso l'orario di apertura pubblico dell'ente. Abbiamo aumentato gli investimenti perché siamo passati dal 3,42% del 2015 al 5,12% di spese di investimento rispetto alle spese totali dell'ente, quindi sicuramente investimenti importanti. Opere importanti come se ne sono opere importanti, la piazza stazione che a breve partirà, i lavori sui parchi, il polo culturale e tanti altri piccoli interventi che magari non tutti vedono ma che sono stati davvero tanti in questi anni. Oltre ad aver ridotto l'indebitamento e i costi di funzionamento dell'ente abbiamo anche mantenuto le stesse aliquote pur applicando degli sconti, quindi alla fine i cittadini e le imprese pagano meno rispetto a quello che pagavano prima alle varie tasse. C'è stato possibile anche grazie al recupero dell'evasione tributaria che è stato fatto in questi anni, 10 milioni di euro recuperati in quasi 5 anni, insomma cifre importantissime che è consentito di fare degli sgravi importanti. Anche per il Covid, quindi nel 2020 tutte le utenze non domestiche, quindi tutte le attività, studi professionali, imprese, negozi hanno avuto più del 30% di sconto tari e l'anno prossimo vi sarà uno sconto del 10% per tutti quanti, cittadini e imprese, insomma sconti importanti che serviranno a rilanciare anche l'economia. Tre progetti più importanti su cui concentrarsi ancora, Morigia. Sì, Morigia stiamo vedendo, diciamo stiamo discutendo con l'attuale gestore che cosa è possibile fare, sicuramente è qualcosa che avrei voluto magari fare prima ma sono sicuro che nei prossimi anni si riuscirà a dare gallerate un impianto degno di essere considerato tale. Grazie. Grazie.